Dopo due anni di lavoro è stato terminato il nuovo regolamento per l'apertura delle sale da gioco e la sostituzione delle slot machine. Prato è tra i primi comuni ad aver realizzato un proprio regolamento, che verrà preso a modello dal Lanci. Cambia molto, cambia orari, cambiano distanze, cambiano luoghi, cambia l'approccio. Purtroppo l'udopatia e il dramma del vizio da gioco sta entrando anche nelle case dei pratesi in maniera importante. Questo regolamento cerca appunto di mettere dei paletti saldi. Del resto i dati indicati dal SED sono preoccupanti. Nel 2004 venivano seguiti solo 4 pazienti. Nel 2013 i nuovi ingressi sono stati 34, di cui 27 uomini e 7 donne, con un'età media di 48 anni. Nel 2015 i pazienti sono stati 24, di cui 21 uomini. Mentre i dati del primo semestre del 2016 hanno registrato 13 nuovi ingressi. Il profilo del giocatore tipo è quello di una persona adulta, prevalentemente di sesso maschile, con livello medio-alto e di istruzione. Ma non mancano i giovani, i giovanissimi e gli oltre 65 anni. Non è stato un lavoro semplice perché ci siamo confrontati con diverse realtà e non è stato semplice anche perché diversi comuni che avevano azzardato, diciamo, delle ordinanze sono stati legalmente anche attaccati. Quindi abbiamo dovuto trovare nelle soluzioni il meno attaccabili possibile e nello stesso tempo che assicuravano una buona e adeguata prevenzione. Tra le novità più importanti l'ampliamento dell'elenco dei luoghi sensibili da cui le sale da gioco devono distare almeno 500 metri, l'elevamento delle sanzioni minima da 25 euro a 450 per chi non rispetta il divieto di far giocare i minorenni e la scelta di non concedere il patrocinio per le attività che ospitano macchinette per il gioco.